Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, rallentamenti e coda per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest il Bibbia 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriviamo ai Fipili, codi a tratti per rispostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandici, verso Firenze, in carregiato opposta, coda in uscita a Firenze Scandici. Uno sguardo al traffico urbano del capoluogo nell'ambito dei cantieri tramvia, segnaliamo modifiche dell'assetto viario in zona stazione. In chiusura ricordiamo che è in corso uno sciopero di 24 ore del settore trasporti, possibili disagi e cancellazioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!